E' stato un momento di gioia l'inaugurazione della nuova sedia operativa dell'Aitamar che è in via della colonna Fano. L'associazione senza scopo di lucro è composta da persone con afasia, i loro familiari, specialisti e volontari che hanno l'obiettivo di capire e affrontare insieme quel disturbo acquisito del linguaggio che può presentarsi in seguito a un evento neurologico come un ictus o un trauma cranico e che danneggia la capacità di una persona di produrre e comprendere il linguaggio scritto e verbale. Oggi è un momento di festa perché nelle Marche abbiamo aperto in tempo relativamente breve quattro sedi quindi Pesaro, Torrette di Ancona dove c'è la mia collega che è anche mia vicepresidente e poi Porto Potenza Picena e oggi Fano. E' stata una sinergia di forze tra Fano e Pesaro e così oggi diamo vita a questa attività. La ONLUS promuove incontri settimanali di auto mutuo aiuto, corsi e convegni di aggiornamento, progetti di teatro, musica e informazione offrendo luoghi di incontro per incentivare la socializzazione tra le persone afasiche e non. Un servizio di cui non sempre si parla e di cui invece una componente importante della popolazione locale le può usufruire e ha bisogno e sono persone di varie fasce d'età e questo sicuramente è un dato significativo perché consente il recupero più tempestivo di abilità che differentemente rendono la vita molto difficile. Quindi grazie e la città di Fano ringrazia l'associazione e speriamo davvero di poterne dare la massima diffusione perché se ne possa fare il migliore utilizzo.